Sì, lunedì 24 luglio celebriamo il 79esimo anniversario della liberazione di San Giovanni dal nazifascismo. Per noi è una data molto importante perché il nostro territorio venne liberato grazie all'apporto ovviamente fondamentale dei partigiani di tutte quelle forze che contrastavano in quell'estate del 1944 l'avanzata dei tedeschi con la complicità dei fascisti. Anche quest'anno grazie alla collaborazione con Ampi e soprattutto con Materiali Sonori e il Festival Oriente Occidente ospiteremo a San Giovanni Valdano e ne siamo particolarmente orgogliosi l'Orchestra Multiettica di Arezzo diretta da Enrico Fink con i Modena City Rambles. Quindi un messaggio chiaro e diretto dalla parte dei diritti, dalla parte della resistenza a partire da un territorio che ha dato un apporto fondamentale alla resistenza e che continua ancora oggi a tenere vivi quei valori che sono i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà. Quindi invito tutti a partecipare lunedì 24 luglio a partire dalle 21.30 in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdano con ingresso gratuito. Grazie. Grazie. Grazie.